Buonasera, buonasera, sì ormai è pomeriggio, benvenuti a tutti quanti, grazie sotto questo sole, veramente un atto di coraggio, quindi due volte grazie. Oggi in questo panel parleremo di moda sostenibile, sembra un argomento frivolo, lo è molto meno di quello che si pensi. Su questo palco assieme a me Marina Spadafora e Luisa Cioni che hanno scritto un bellissimo libro dal titolo emblematico La rivoluzione inizia dal tuo armadio. Non è così evidente o almeno non lo era fino a qualche anno fa capire che il nostro pianeta si nutre anche di nostri gesti quotidiani, come ad esempio scegliere di acquistare o non acquistare un abito. Io partirei proprio chiedendo a Luisa come il lockdown ha cambiato le cose, come il Covid ha cambiato le cose e secondo te qual è l'atteggiamento dei consumatori nei confronti della moda? Grazie Arianna e grazie anche all'organizzazione che ci dà questa chance di presentare un libro che è uscito appunto durante il Covid. Perché io e Marina, Marina ed io anzi dovrei dire più esattamente, l'abbiamo voluto fortemente a tutti i costi. Il Covid è stata una piaga, sarà una piaga ancora per un po', ma per quanto riguarda i nostri temi, cioè la sostenibilità dell'abito e del vestire, ci ha alzato una palla pazzesca perché ha presentato a tutti, ha fatto vedere a tutti il costo dell'inquinamento sul pianeta. La industria della moda è una delle più diffuse che esistano, coinvolge milioni di persone in tutti i continenti e sebbene le nostre tesi siano precedenti al Covid, che cosa abbiamo voluto sottolineare? Che si può fare della moda sostenibile, che sia anche bella, che non inquini il pianeta, ma soprattutto che non faccia di una parte dei suoi lavoratori, quelli che stanno nei paesi in via di sviluppo, degli schiavi. Perché oggi è questo che costa un abito low cost, cioè il fatto che questo mondo, diciamo che chi lo vede da fuori, noi invece siamo degli addetti ai lavori, io sono una giornalista di moda maligana, è una eccezionale stilista e quindi ora spiegherà anche lei come si può fare a essere ben vestiti, eleganti e pieni di creatività anche in una moda che non passi attraverso lo sfruttamento dell'uomo e lo sfruttamento del pianeta. Una moda sostenibile si può fare, già si sta facendo, non è una moda ascettica, non è moda brutta, non è un volere vestire in tela di sacco e con le scarpe basse Birkenstock, è una moda che qualche anno fa non si poteva fare perché la tecnologia non la supportava. Adesso una moda sana è possibile e accanto al sano ci deve essere anche la giusta Mercedes, pagare il giusto chi ci lavora. Grazie Luisa. Marina, allora come si fa a vestirsi bene? Perché nessuno ha voglia di rinunciare all'eleganza e allo stesso tempo non spendere una follia perché molto spesso quello che viene recriminato alla moda etica è di costare un po' troppo. Dove si sceglie, come ci si informa? Te lo chiedo soprattutto perché magari le generazioni più giovani sono molto abituate ai millennials a utilizzare internet e a informarsi, mentre anche la mia generazione, io ho 49 anni, fanno un pochino più fatica. Grazie per la domanda, molto a proposito. Dunque ci sono molti modi di vestirsi in maniera etica, abbiamo messo appunto nel libro il decalogo di come si può costruire un armadio etico, tra virgolette. Diciamo che la regola numero uno è comprare meno, comprare di qualità e far sì che duri nel tempo. Cosa vuol dire questo? Che il fast fashion, quindi la moda a poco prezzo, ci ha imposto quasi dei ritmi di acquisto insostenibili perché queste catene del low cost escono con delle collezioni quasi ogni settimana. Questo ha un prezzo sia sull'ambiente, perché chiaramente producendo così tanto si inquina tantissimo. Infatti l'industria della moda è una delle più inquinanti al mondo. Si diceva fino a qualche tempo fa che eravamo la seconda più inquinante al mondo, ma pare che non siamo più la seconda, la terza, comunque inquiniamo tanto. E soprattutto vengono utilizzate delle maestranze che non vengono pagate e non vengono protette. Infatti io sono rappresentante di un movimento internazionale che si chiama Fashion Revolution, che è nato dopo il crollo del Rana Plaza, che era un polo produttivo in Bangladesh, che è crollato uccidendo più di 1138 persone, per essere precisi, e ferendone 2.500. Da allora ci siamo detti che non è possibile morire per la moda e soprattutto non è possibile che delle persone vengano schiavizzate e vengano trattate così in maniera terribile perché noi possiamo comprare una maglietta a 5 euro. Quindi questo non va assolutamente bene. A perché non abbiamo bisogno di tutti questi abiti, di tutti questi vestiti. E quindi ogni volta che ci troviamo col desiderio di acquistare qualcosa, cerchiamo di chiederci intanto chi ha fatto questo capo di abbigliamento. Perché la moda è una delle industrie a più alta manovalanza, cioè proprio fisica che ci sia al mondo. Ci sono più di 70 milioni di persone che lavorano nel mondo della moda e queste persone devono avere dei diritti. Quindi comprare di meno, chiedersi chi ha fatto questo capo di abbigliamento. Se vediamo una maglietta che costa 5-10 euro è chiaro che qualcuno è stato sfruttato, qualcuno non è stato trattato bene. Poi ci sono anche tante scorciatoie, tanti modi facili per avere un armadio sostenibile. Comprare vintage, dare una seconda chance a abiti che erano fatti benissimo negli anni 50-60 e avere qualcosa di unico. Rammendare, quindi non buttare mai via, ma aggiustare oppure regalare. Quindi la famosa tradizione del passare gli abiti dei bambini tra amiche o tra familiari è favolosa. Comprare appunto di meno e comprare più di qualità. Io preferisco salvare dei soldi e non comprare 5 magliette da 5 euro, ma comprarne è una che costa un po' di più e che so che è stata fatta seguendo quelli che sono anche i miei valori. Quindi ci sono molti modi per evitare di diventare complici in questi reati. Perché io dico sempre, ogni volta che noi facciamo un acquisto, non solo di moda, ma anche di cibo, di qualsiasi costa, noi votiamo per il mondo che vogliamo. Perché quando noi finanziamo con i nostri acquisti un'azienda che si comporta male vuol dire che diventiamo complici e questo non lo vogliamo. Ci sono molti siti online, uno si chiama una app che si chiama Good on You, in Italia c'è il vestito verde, noi di Fashion Revolution abbiamo fatto la mappa italiana dell'acquisto sostenibile, quindi tutti i posti in Italia dove si vende moda appunto etica. E la troviamo sul web? La troviamo sul sito di Fashion Revolution Italia e c'è questa mappa molto facile da gestire e da, diciamo, da vedere perché ha tutti i puntini, è come TripAdvisor, ci sono le flag su tutte le città, quindi si può capire dove andare a fare questi acquisti. La cosa importante, appunto ribadisco, è comprare di meno, più di qualità e far sì che questi capi, di cui dobbiamo essere innamorati per comprarli, durino di più nel tempo. Sono perfettamente d'accordo, tra l'altro mi hai lanciato un assist perché il vintage, che non si trova più, ahimè non si trova più, è fortemente di tendenza. Allora ho due domande per te, la prima è dove finisce tutto quello che noi buttiamo via. Avevamo parlato in una precedente intervista, per esempio quando noi abbiamo dei vestiti che ci avanzano pensiamo di fare un'ottima azione andando a buttarli nei cassonetti gialli. E invece, Luisa? Ma invece purtroppo, noi abbiamo cercato di spiegarlo, è tutto il sistema che non cammina, perché dare questi vestiti ai cassonetti che poi li portano in Africa, dove ci sono dei problemi, danneggia anche quei posti lì dove esiste, nasce una moda interessante che viene, come si può dire, rasa al suolo da questo tipo di donazioni. Ma facciamo un passo indietro. La moda, per come la vediamo noi, è una grandissima industria internazionale. Negli ultimi 15-20 anni il sorgere di decine e decine e decine di collezioni che hanno vita brevissima ha inflazionato tutto quello che era un mercato bellissimo. C'è stata quindi adesso una crisi che va in due settori. Una di prodotto, la moda adesso in genere è brutta, è brutta e malfatta. L'altra, un malinteso senso della globalizzazione, ha preteso di cancellare magnifiche tradizioni di abbigliamento culturale, di gusto, di fantasia, unificando tutto attraverso la bruttezza di magliette e pantaloni, una mancanza di fantasia, di gusto, una specie di leninizzazione della moda. Che cosa succede? Ci sono delle bellissime piccole industrie locali che producono il loro mondo con le loro stoffe, con i loro colori. Arriva questa roba, queste industrie ne soffrono e vengono soffocate. E questo è uno dei problemi. Non si arriva a capire dove sia la positività di trovare la stessa cosa nei negozi di Pechino o di Roma, quando ognuno di noi poi in realtà ha la sua personalità e il suo gusto. Per quale motivo dobbiamo vestire tutti con le stesse cose, ascoltare tutti la stessa musica, vedere tutti gli stessi film. Se ci pensiamo bene è una specie di grande fratello, però vestito di parole magiche, della globalizzazione. Che bello, che bello. A me pare sinceramente un assurdo, non perché abbia nulla contro il commercio e l'industria, ma semplicemente perché credo che l'importanza sia quella della valorizzazione ognuno del proprio gusto, delle proprie culture, della propria espressività. E comunque se anche questi non fossero positivi non sarà vestendo tutti in maniera uguale, che lo diventano. Neanche Mao Zedong ci aveva mai pensato, ma questa gigantesca eccedenza di merce dove finisce? Quando va bene finisce nei secondi e nei terzi mercati, va negli outlet, poi va nelle bancarelle, ma nella maggior parte dei casi viene bruciata. Chi ha delle grandi strutture la brucia in maniera ecologica, ma chi non le ha la brucia o la butta nelle discariche dove questo materiale, che non è naturale, continua serenamente a inquinare. A inquinare la falda acquifera, a inquinare l'atmosfera se brucia. Pensate che cosa deve essere vivere in un paesino, in un villaggio dove 365 giorni all'anno brucia roba di nylon. Che cosa è per gli occhi, che cosa è per l'aria, che cosa è per tutto quello che è la nostra salute. Se pensiamo che cosa succede quando brucia un deposito di gomme, pensiamo anche che cosa succede a viverci accanto tutti i giorni. Perché dietro alle paillette, dietro alle modelle, dietro alle grandi sfilate c'è poi una realtà estremamente brutta, estremamente povera, ma che si può combattere. E questo è quello che io e Marina cerchiamo di spiegare. Non si tratta di rinunciare alla moda, non si tratta di rinunciare al bello, si tratta di provare a cambiare il sistema. Abbiamo un bellissimo precedente, che è quello del cibo biologico. È stato il consumatore, dopo anni di campagne di sensibilizzazione, a esigere che i coloranti pericolosi, che tutta una serie di cose che si sono mangiate non esistessero più e a esigere un certo tipo di cibo sulla sua tavola. Ora il consumatore di abbigliamento può pretendere lo stesso. Soft power, se il consumatore accetta di non acquistare più tre magliette a 10 euro, gli stessi produttori dovranno adeguarsi. Sono perfettamente d'accordo. Il grandissimo potere di chi decide che cosa comprare e che cosa non comprare. E questo è un potere che abbiamo tutti quanti noi quotidianamente. Tu sei una stilista e quindi lavori con la creatività. Che cosa ha significato il fast fashion e poi l'omologazione rispetto ai tempi che anche i grandi stilisti hanno fatto? Quindi tutte le pre-collezioni, le collezioni cruise. C'è veramente bisogno di tutto questo? E come un creativo reagisce a una forzatura di questo tipo? Almeno io la leggo come una forzatura. Tanti creativi, a tanti creativi viene l'esaurimento nervoso. Ed è vero, ci sono i direttori delle maison più importanti. Abbiamo avuto dei casi eclatanti anche ultimamente che buttano la spugna, cioè non ce la fanno più. Anche perché queste maison, questi brand sono di proprietà di grandi gruppi che mettono sempre più pressione su questi creativi. Il problema fondamentale è che adesso il lusso sta rincorrendo il fast fashion e quindi vedendo che il fast fashion produce qualcosa ogni settimana, le maison hanno detto bene, allora noi dobbiamo fare i drop, dobbiamo fare le pre-collezioni, come dici tu, la cruise, la holiday, la special San Valentino cinese, cioè di tutto e di più. Ed è veramente profondamente sbagliato. Ha avuto un grande coraggio il signor Armani quando ha scritto questa lettera a Women's Wear Daily dicendo la moda deve tornare ai tempi giusti, quindi ai tempi in cui si facevano le sfilate due volte all'anno. C'erano due stagioni, l'autunno-inverno, la primavera-estate e i capi arrivavano in negozio quando la stagione è giusta. Cioè il mio cappotto di alpaca, di cashmere, deve essere in negozio in settembre, ottobre, novembre, non a giugno-luglio, non ha nessun senso. Grazie a Dio è stato ascoltato, l'hanno seguito Dres Van Noten che ha fatto un gruppo di stilisti che hanno aderito a questa nuova slow fashion. Gucci è uno di quelli che anche vuole fare questo e io credo che dobbiamo tornare ad umanizzare la moda. Cioè va benissimo creare, va benissimo fare delle bellissime collezioni ma vanno fatte nei tempi giusti, vanno fatte due volte all'anno come era sempre stato, vanno consegnate nei negozi con i tempi e le stagioni corrette e bisogna smetterla di avere questa bulimia d'acquisto. Quindi noi soffriamo e non è perché ce lo siamo inventati noi. È stata l'industria del fast fashion che ci ha offerto, ci ha allettato con queste continue proposte di cose nuove e di cose incredibilmente a buon mercato che costavano di meno che mangiare un gelato e quindi le persone sono state, come dire, ingannate. Ma secondo te c'è questa sensazione di cambiamento? Per esempio io compravo fino a 4-5 anni fa fast fashion, adesso mi è capitato rarissimamente magari di comprare un pezzo ma poi mi sento così male, ma così male, come se avessi proprio fatto, non so, fosse andato a rubare, avessi fatto qualcosa di estremamente brutto nei confronti del pianeta e credo che sia un atteggiamento che non è solo personale perché lo condivido e spesso mi viene detto che è così. Siamo un pochino più consapevoli? Assolutamente sì. Ci sono intanto le generazioni nuove, i millennials e la generazione Z che sono molto più consapevoli della nostra generazione e devo dire che campagne di sensibilizzazione come quella che stiamo facendo con Fashion Revolution, ma poi ci sono tantissime associazioni, clean, close campaign e tante altre stanno veramente facendo la differenza. Quindi i consumatori, come dici bene tu, si sentono un po' strani ad andare a comprare qualcosa che costa molto poco. Ne parlavamo backstage prima, Zara sta chiudendo più... 1400 negozi. 1400 negozi. Questo è un segno dei tempi, è qualcosa che sta avvenendo e anche i brand del lusso si stanno rendendo conto che se non entrano in questa logica di circolarità, quindi di creare una moda che viene pensata nel momento in cui viene creata, per cosa accadrà quel capo quando ha finito dal suo ciclo di vita e non avranno un futuro, cioè perderanno mercato in maniera esponenziale. Questo è molto molto importante perché parliamo di un business, di un business enorme che dà, diciamo, da vivere, appunto abbiamo detto, a 70 milioni di persone ed è qualcosa che non possiamo semplicemente buttare in un angolo, ma bisogna farlo in maniera corretta e si può fare in maniera corretta. Anche il famoso fast fashion. Io ho un'idea un po' rivoluzionaria che è la seguente. Allora, se abbiamo abituato il pubblico a comprare un abitino per 25-30 euro, però adesso ci viene imposto non solo dalla richiesta dei consumatori ma anche da leggi, perché stiamo lavorando anche sulla legislatura che ha bisogno di essere implementata. Quindi, se noi abbiamo abituato i clienti a questo tipo di prezzo, ma adesso dobbiamo farlo senza inquinare e pagando il giusto le maestranze, quei costi in più devono essere assorbiti dal brand, devono essere assorbiti dal gruppo, non devono essere buttati sul consumatore. Cioè, tu non devi vendere lo stesso vestito tutto ad un colpo per 50 euro perché hai iniziato a non inquinare e a pagare il giusto. Tu devi bilanciare questa cosa. Questi gruppi, il proprietario di Zara è uno degli uomini più ricchi del mondo. Allora, se si accolla qualche euro... Non sarà facile. Ma se si accolla qualche euro a capo, muore nessuno, anzi, appunto, non muore nessuno. E secondo me questa è la strada giusta. Cioè, non bisogna buttare tutto il peso di questa etica sul consumatore finale. Sono d'accordo, anche perché i tempi sono duri per tutti e quindi in un momento come questo magari il consumatore guarda anche a un saving cost. Però c'è una cosa bellissima della quale voglio parlare. Io sono una tech lover e la tecnologia sta cambiando tutto questo. I materiali nuovi, le idee nuove, Luisa? Sì, i materiali nuovi, le idee nuove vanno nella direzione di una maggiore sostenibilità dell'abbigliamento. Se prima non si poteva fare, adesso si può fare. L'unico problema che può sorgere è se si vuole fare. Cioè, se pensiamo, diciamo, al vecchio mondo sostenibile significava cotone brutto in linea di massima, mal tinto, mal curato. Adesso, proprio su questi siti che ci sono nel sito di Fashion Revolution, ci sono abiti deliziosi, cose carine. La moda, diciamo, etica, sostenibile, se vogliamo darle un nome meno pesante di etica, è una moda allegra, è una moda creativa, perché è una moda che gioca con i capi, li reinventa, fa sì che non vadano dentro alle discariche, ma che possano esistere di nuovo con dei cambiamenti. In realtà è tutto un gioco di creatività che torna indietro, una creatività che era stata assassinata. Perché questi, gli stilisti che erano devastati da creare una collezione ogni venti giorni, non avevano modo di esplicitare la loro creatività. Ora, se si torna a un maggiore modo di pensare, non solo i grandi stilisti potranno pensare di nuovo, ma anche tutti quelli che lavorano negli uffici studi. Molte volte si dice come mai non nasce un nuovo Armani, è perché probabilmente sta disegnando per Zara in qualche ufficio studi che certamente gli dà da mangiare, ma non gli consente di creare una nuova linea, creare un nuovo brand. Questo motivo per cui non arrivano i giovani in passerella, lo abbiamo esaminato e lo ha esaminato con profondità marina. La tecnologia, tornando alla domanda, la tecnologia offre oggi delle soluzioni molto grosse e belle. Per esempio, per bandire la pelliccia. Una volta la pelliccia sintetica era sinonimo di petrolio che bruciava, inquinamento disumano. Adesso è bello. Ci sono dei, diciamo, non sono dei pellami, sono dei paralleli della pelle con cui si possono fare delle scarpe e delle borse molto belle, dei materiali per fare anche magliette, cioè tutte, magliette, capi di abbigliamento, tutti materiali che non solo non inquinano ma portano con sé la modernità di alcune, diciamo, qualità irrinunciabili che aveva una volta solo il materiale naturale. Adesso si può fare anche un materiale sintetico non inquinante ma di alta performance. Quindi la tecnologia viene in aiuto, fa spendere all'inizio un filo di più ma poi molto di meno perché ricicla. C'era Orange, come si chiama? Orange Fiber. Orange Fiber, per esempio, che è un materiale ottenuto da alcuni ragazzi in Sicilia riciclando la bluce delle arance. Mi viene in mente questo per il terribile caldo di oggi e quindi per una cosa fresca da bere. Quindi diciamo che chi si oppone a queste possibilità lo può fare per due motivi. Uno perché magari ha il suo interesse ma l'altro perché non sa. Oggi, ripeto, per fortuna nostra del pianeta esistono le chance, esistono le vie di fugga. Si può fare, si può fare rivivere un abito, si può fare una collezione intera dando le collezioni invece che andare a bruciare offrendole e facendole rinascere. Si possono usare delle fibre, per chi per esempio non vuole usare fibre naturali, ma si possono usare anche fibre naturali che non sono costate la vita agli animali. Ripeto, è un mondo che si è aperto e noi ne abbiamo parlato, abbiamo un capitolo proprio su tutto questo tipo di fibre di tecnologia e di possibilità che fanno vedere come diciamo un'opposizione sterile che parte dal principio, ah ma voi cosa volete? Volete che fallisca l'industria dell'abbigliamento? No, no, assolutamente no. Noi vogliamo che l'industria dell'abbigliamento casomai si evolva, esca dal medioevo, cioè dallo sfruttamento della terra e dell'essere umano e entri nell'evo moderno usando le tecnologie, usando le macchine, anche se sappiamo molto bene che non può rinunciare alla manodopera perché, come diceva Marina, la moda è ancora un mestiere dove la parte dell'essere umano, la manodopera è importante e in conseguenza di questo è anche importante però che la gente che vi lavora non venga chiusa nel Rana Plaza e muoria dentro oppure non venga mandata nei campi come in Uzbekistan e non vada a scuola, cioè mettiamoci in mente che queste novità vengono per portarci nel futuro, non per farci sognare un passato che se Dio vuole non c'è più e perché non era poi così positivo. Una domanda così a bruciapelo, ma sei delle vecchie pellicce ereditate, è più etico continuare ad indossarle o buttarle via? Qui mi distruggi perché io onestamente ho delle pellicce ereditate e soprattutto quando vedo Marina mi guardo molto bene dal indossarle e perché so benissimo che non è etico farlo, però è vero anche che oramai sono lì. Diciamo che la soluzione può essere quella che ha suggerito la regina Elisabetta che ha messo una fine, ha detto lei non ne avrebbe più acquistate e avrebbe in caso di freddo usato quelle sintetiche, per quelle che c'erano avrebbe continuato ad usarle, io però porto il cappottino. Tu cosa ne pensi? Io penso che se un capo è già nel tuo armadio va benissimo metterlo, anche se è una pelliccia, è chiaro che è peggio buttarla via piuttosto che utilizzarla, anche quando compri vintage ci sono delle pellicce vintage, quindi se uno vuole acquistare qualcosa vintage che è fatto, intanto l'animale è stato ucciso, è morto, quindi è successo già un sacco di tempo fa, almeno diamogli la chance di continuare a essere utilizzato. Poi c'è da dire una cosa sulle pellicce finte, tra virgolette, che bisogna stare molto attenti perché quelle fatte in materiale sintetico sono super inquinanti, ma adesso ci sono invece quelle fatte di materiali naturali, quindi di lana, di alpaca, di cashmere, che hanno questi filati che hanno l'aspetto della pelliccia, quindi anche lì bisogna stare attenti a cosa comprare, perché tutto quello che è fatto di materiale sintetico che viene dal petrolio, dai carbon fossili, poi quando viene lavato rilascia delle microfibre nell'ambiente, che ormai le troviamo, Greenpeace è stato a cercarle in cima all'Himalaya o in fondo agli oceani, è tutto pieno di queste microfibre di plastica che poi vengono chiaramente assorbite, ad esempio dai pesci, che poi noi mangiamo e quindi è tutto collegato. Esiste però, perché vogliamo sempre nel libro, siamo molto propositive con delle soluzioni, perché non vogliamo solo deprimere la gente, dobbiamo dire che ci sono delle soluzioni, ad esempio se abbiamo tanti capi fatti in materiali sintetici, quando li laviamo in lavatrice si possono mettere dentro questi sacchi, uno si chiama guppy bag, ce ne sono tanti che si possono comprare, che trattengono le microfibre durante il lavaggio dentro questo sacco e poi possono essere tolte e buttate via in altro modo. Quindi è importante avere sempre delle soluzioni. Sì, allora parliamo di materiali, proprio perché ne hai parlato ora. Si pensa che magari, non so, il cotone sia la cosa più etica che possiamo comprare per un, non so, per una t-shirt o per qualsiasi altra cosa. In realtà scopriamo che non è affatto così. Anche sui materiali c'è un grandissimo discorso da fare. Sto pensando al denim che può essere realizzato in tanti modi a seconda dei finissaggi che gli si dà, ma di come ci si arriva. E questo è molto difficile per il consumatore da capire. Quindi ho due domande. Esiste un tessuto che è più etico di un altro e la seconda, che è molto più concreta, come si legge un'etichetta? Domanda molto importante. Allora il cotone è una fibra naturale, è una fibra, una delle fibre naturali più utilizzate al mondo. C'è da dire che il cotone tradizionalmente cresciuto usa un quarto di tutti i pesticidi utilizzati in agricoltura in un anno. Quindi è una cultura che ha bisogno di tantissima acqua e di tantissimi pesticidi. C'è l'alternativa del cotone biologico e c'è adesso un'iniziativa che si chiama Better Cotton Initiative che insegna ai coltivatori a usare meno pesticidi, a utilizzare meglio l'acqua e a non usare bambini per raccogliere il cotone. Quindi bisogna capire un attimino come indirizzarsi. Esistono fibre più etiche e più naturali? Sì. C'è la canapa, ad esempio, che è meravigliosa. La canapa è stata estirpata da tutto il mondo quando Reagan ha deciso di fare la sua guerra alla droga. Peccato che la pianta della canapa tessile non è la stessa pianta della canapa che si fuma. Quindi Reagan ha preso un abbaglio micidiale e, ad esempio, noi in Italia avevamo delle piantagioni meravigliose di canapa in Toscana e in tanti altri luoghi. Se pensiamo alle divise dell'esercito delle due guerre, per non dire tutte le lenzuole delle caserme, era tutto fatto di canapa, che è una pianta molto resistente, quindi non ha bisogno di pesticidi, ha bisogno di pochissima acqua ed è una soluzione molto molto più intelligente. Poi tornando all'innovazione, ci sono adesso dei tessuti meravigliosi farti con la fibra del mais, la fibra della soia, riciclando ciò che si butta via dopo aver fatto i succhi d'arancia, dopo aver fatto il vino, qua siamo in una zona di vino, adesso si fa questa bellissima pelle che si chiama vegea, pelle vino, ed è fatta con tutti gli scarti che ci sono dopo aver fatto il vino. Quindi le soluzioni ci sono e l'etichetta deve essere regolamentata, cioè l'etichetta deve essere un'etichetta parlante, quello per cui ci stiamo battendo noi nelle nostre associazioni è per avere un codice QR che tu puoi fare la scansione col tuo telefono e ti racconta tutta la storia di questo capo. Questo è fondamentale perché, come diceva prima Luisa, se noi nel cibo e nella cosmesi abbiamo delle leggi molto serie su cosa ci deve essere scritto sull'etichetta dietro a qualcosa che andremo a mangiare o a mettere sul nostro viso, allo stesso modo se qualcosa ce lo mettiamo addosso, pensando che la pelle è l'organo più grande del nostro corpo, noi abbiamo il diritto di sapere come è stato fatto questo tessuto, con cosa è stato tinto. Sono stati vietati tanti anni fa le tinture con i metalli pesanti e si possono usare solo tinture adzo free, che vuol dire senza metalli pesanti. Peccato che la maggior parte degli abiti sono fatti in paesi molto lontani, di solito in sud-est asiatico, dove queste normative non esistono. Allora cosa succede? Che vengono fatti là, vengono tinti con i metalli pesanti, vengono importati e non vengono controllati in dogana e quindi noi nei negozi troviamo ancora questi abiti che sono fatti male e che ci fanno male. Greenpeace è andata a comprare degli abiti sia dai designer che dalla fast fashion, li hanno fatti analizzare nei laboratori e su cinque capi tre avevano questi metalli pesanti che sono estremamente dannosi sia a livello solo cutaneo ma appare adesso che scendano proprio a livello endocrino e del DNA causando delle patologie molto pesanti. Quindi con Fashion Revolution e altre 60 associazioni abbiamo proposto al Parlamento europeo una shadow policy che si chiama Fair and Sustainable Textiles che è una linea guida per creare delle leggi serie che possono regolamentare il settore tessile perché solo con le leggi più il potere del consumatore che richiede certe cose noi possiamo arrivare a una soluzione definitiva. Grazie. Credo che il nostro tempo sia pressoché terminato. Vi ringrazio, grazie Luisa. Grazie a te. Grazie. Grazie mille. Grazie al pubblico che ha sofferto un caldo micidiale. E comprate il libro che è bellissimo. Comprate il libro. Questo è il libro ed è veramente una guida molto chiara a come, è piccolino, si legge velocemente, a come diventare un consumatore intelligente e responsabile e ve lo consigliamo caldamente. Ve lo consigliamo sia perché l'abbiamo scritto noi sia perché oggettivamente la idea che ci ha portate fino a qui è stato quello di portare a tutti quello che sapevamo come addetti ai lavori. Io come giornalista di moda, Marina come stilista perché ci siamo rese conto che la nicchia di cui facevamo parte e nel quale tutti noi sappiamo come vanno le cose. Era troppo piccola. Se bisognava riuscire a cambiarle davvero bisognava spiegarlo a tutti. E quindi siamo messe lì, le abbiamo scritto e speriamo vi piace. Grazie. Buona continuazione.